Amici, con questo bellissimo tempo comincio un nuovo test di autonomia con lo Xiaomi Mi Pro 2 in questo caso però andando sempre e solo alla velocità massima di 20 km all'ora quindi utilizzando la modalità drive questo perché rispetto al test precedente che ho fatto sempre e solo a 25 km all'ora in questo caso provo a essere del tutto conforme ai limiti nuovi della legge sui monopattini che quindi prevedono di andare massimo a 20 km all'ora dunque il nuovo scenario sarà quello in teoria più comune nell'utilizzo del monopattino perché parliamo di una temperatura media che sarà circa 20 gradi questo è l'obiettivo del test e ripeto la velocità massima consentita per legge quindi 20 km all'ora dunque mi avvio e speriamo che la pioggia non mi faccia una sorpresa il giro è finito 20 all'ora farò spento e la pioggia mi ha graziato va bene vi aggiorno man mano ciao allora nuovo giro in questo caso però accompagnato dalla pioggia quindi vabbè temperatura leggermente più bassa ma non ho molto da scegliere ci aggiorniamo dopo giro finito purtroppo stavolta l'acqua mi ha preso e cosa che più mi dispiace non è tanto l'acqua quanto la temperatura che è un pochino più bassa rispetto a quella che volevo utilizzare per il test quindi ho fatto questo tratto a 16 gradi vabbè spero di riuscire a compensare con un giro magari a temperatura più alta di 20 vediamo ciao amici giro finito si sta mettendo a piovere che culo vi aggiorno dopo ciao ciao amici temperatura buona tempo pessimo però comincia un altro giro vediamo amici giro finito ma purtroppo l'acqua mi ha preso e ho dovuto combattere anche con vento bello forte e vabbè vi aggiorno al prossimo giro ciao amici comincia un altro giro oggi la temperatura è discreta il tempo così così quantomeno però non dovrebbe piovere credo sia l'ultimo giro sebbene non sia del tutto sicuro della cosa perché a 20 all'ora l'autonomia mi sembra un po' aumentata quindi vi do aggiornamenti man mano ciao amici l'ultimo l'ultima tacchetta della batteria aveva cominciato a lampeggiare e a colorarsi di rosso chiaramente ha avviato il video ha pensato bene di tornare bianca però non mi va di vabbè tendenzialmente ho finito il giro non mi va di girare intorno casa semplicemente per fare qualche chilometro in più perché alla fine si tradurrebbe in fare magari uno o un chilometro e mezzo in più per farla restare rossa fissa diciamo che il test è stato completato l'evidenza che ho è che l'autonomia a 20 all'ora in effetti è più alta rispetto ai al limite di 25 all'ora come velocità massima che è il limite utilizzato per gli altri test faccio i conti e alla fine provo a quantificare quanto in effetti è maggiore l'autonomia andando a velocità come quella che ho usato adesso che è assolutamente in linea con la nuova normativa che vi ricordo prevede di andare massimo a 20 all'ora e non a 25 quindi al solito se avete dubbi suggerimenti o altro lasciatemi nei commenti e vedrò di rispondervi appena possibile ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti